Buongiorno, sono Fabio Garoli. Assieme ai miei colleghi mi occupo da oltre 25 anni di stime, locazioni e compravendite. Il nostro studio è in Corso Europa numero 5 a Faenza. Il nostro lavoro è fatto di contatti con il pubblico e di sopralluoghi presso le abitazioni. Pertanto, in questo momento il nostro raggio d'azione è estremamente limitato. In sostanza, non operiamo di persona, ma esclusivamente tramite chiamate, videochiamate, messaggi, whatsapp, internet, concentrandoci soprattutto sulla conclusione delle trattative che avevamo già precedentemente impostato. In fondo, non dobbiamo dimenticare che la casa pionvele primario e lasciare un cliente senza le chiavi della nuova abitazione in questo momento non è di cerchio molto carino. I siti internet degli annunci immobiliari, che già da anni sono ricchi di foto e planimetrie, in questo momento possono rappresentare una buona distrazione per tutti e soprattutto per coloro che in realtà stanno cercando una nuova soluzione abitativa e dovranno però demandare la visita a periodi migliori. Oltre ai rapporti con i clienti, abbiamo dei rapporti anche con altri professionisti, ma in questo periodo non possiamo effettuare riunioni. Per cui abbiamo scoperto una piattaforma nuova per noi che è Skype e utilizziamo sia questa che anche le videochiamate. Per concludere, onestamente, ci auspichiamo che questo periodo finisca al più presto possibile per tutti noi, per la salute dei cittadini. Quello che ci manca di più sono le visite agli immobili e qualche cosa che non può essere sostituito assolutamente da nessuna, neanche la più avanzata delle tecnologie, la stretta di mano dei nostri clienti. Grazie a tutti.